Interrogatorio di garanzia domani mattina nel carcere di Foggia per Michela Ferraiolo, 28 anni, pregiudicata campana che venerdì sera insieme a tre complici, due uomini e una donna, ha rapinato la gioielleria Tangredi in via Ferrari a Campobasso. Un interrogatorio che così sperano carabinieri e polizia che stanno indagando, coordinati dal PM Fabio Papa, possa aggiungere qualche tassello a ciò che già è emerso. E mentre si esaminano le telecamere di sicurezza installate nell'esercizio commerciale rapinato che potrebbero aver ripreso i componenti della banda che hanno agito a volto scoperto, si fanno strada ipotesi e possibili congetture. Il piano quasi certamente non era improvvisato, pensano gli investigatori, ma studiato con precisione a tavolino. Addirittura ci sarebbe stato un sopralluogo nell'oreficeria qualche tempo prima da parte della giovane pregiudicata Ferraiolo, con un padre ucciso dalla camorra in un regolamento di conti. La banda infatti ha puntato al sodo, arraffando soprattutto diamanti, un colpo da 300 mila euro circa, secondo le stime fatte a posteriori. E poi l'arrivo e la fuga con due auto diverse e un probabile quinto uomo sulla scena, di cui ha parlato qualche testimone agli investigatori. Sulle indagini ovviamente bocche cucite, ma i campobassani si interrogano su un fatto di inaudita sfrontatezza nel bel mezzo della città e ad un orario in cui la gente è in strada per la consueta passeggiata serale o tornando a casa per la cena. Giovanissimi rapinatori che non hanno esitato ad estrarre la pistola per puntarla in faccia ai titolari della gioielleria. Poi la fuga nei vicoli e il Tangredi che ha sparato un colpo con la sua pistola in aria per intimorire la ferraiolo che stava inseguendo giù per la scalinata di via Garibaldi fino al suo arresto da parte dei carabinieri. In via Ferrari oggi la vita sembra quella di sempre, ma la gente non può non interrogarsi sul verosimile e inquietante legame tra la banda di rapinatori e la criminalità organizzata campana.